Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Stefano De Martino ha preso in mano le redini di Affari Tuoi, il celebre gioco dell'Access Primetime di Rai 1 lasciato da Amadeus, ottenendo fin da subito ottimi risultati. Nonostante le iniziali critiche di Selvaggia Lucarelli, il conduttore ha saputo far decollare il programma, diventando imbattibile per quanto riguarda lo share. Lucarelli aveva inizialmente definito De Martino troppo rigido e inesperto per il ruolo, ma dopo i record di ascolti della scorsa settimana ha dovuto ricredersi. La giornalista ha ammesso di essersi sbagliata, riconoscendo il talento e l'abilità del conduttore nel gestire il programma. Inizialmente critico nei confronti di De Martino, Lucarelli ha ammesso di essersi sbagliata, elogiando la sua crescita e il suo coinvolgimento nel programma. Il successo di Affari Tuoi ha confermato le sue capacità, portando la giornalista a rivedere la sua opinione. Il confronto con il deludente debutto di Amadeus su Cis Chi sul 9 ha reso ancora più evidente il successo di De Martino. Gli ottimi risultati ottenuti dal conduttore confermano la scelta azzeccata della RAI nell'affidargli il programma, dimostrando che De Martino ha tutte le carte in regola per continuare a farlo.